Cancello anti-bivacchi nell'ex chiesa di San Francesco. Il sindaco di Como Alessandro Rapinese torna a ribadire la volontà dell'amministrazione cittadina di procedere con l'iter per la realizzazione della contestata inferriata per chiudere i portici. A breve arriveranno i nuovi tecnici comunali che si occuperanno del progetto che riguarda le grate. Ha spiegato il primo cittadino di Como nelle scorse ore. Torna a ripetere che il cancello è una priorità politica perché non voglio più vedere lo scempio accaduto in passato. Un tema che si inserisce nel dibattito sulla sicurezza in città nei mesi scorsi era stato sempre il sindaco ad indicare l'installazione delle grate nell'ex chiesa di San Francesco entro l'inverno. Un provvedimento come detto molto contestato in città nei mesi scorsi. Si sono svolte manifestazioni contro la decisione dell'amministrazione cittadina di blindare gli accessi sotto i portici dell'ex chiesa. Immediate le reazioni arrivate anche dalla politica e dal mondo del volontariato. Contrari al provvedimento lo stesso centrodestra cittadino si era diviso. Lega a favore del cancello per chiudere i portici mentre contrario il partito di Fratelli d'Italia. Infine sempre nei giorni scorsi arriva a dire la volontà di installare le grate come detto è stato il sindaco della città. Il cancello serve per mettere in protezione la zona così come sono presenti altri cancelli in altre proprietà comunali o pubbliche in tutta la provincia.